L'immagine di un Dio emerso dal mare sembra essere comune a quasi tutti i miti della creazione, oltre che essere presente in quasi tutte le tradizioni delle antiche civiltà del passato. L'acqua quindi sembra essere stata la prima fonte della vita e custodisce ancora oggi un antico segreto non ancora del tutto svelato. Lo stesso scenario lo ritroviamo nell'antico Sud America, insieme a tanti altri fatti curiosi, misteriose coincidenze, che ci fanno presupporre la presenza di un popolo laddove, secondo la storiografia ufficiale, non dovrebbe mai esserci stato. Mi riferisco all'antico e misterioso popolo dei Sumeri. Parleremo di questo, ma parleremo anche di simbologie. Quindi restate con me, perché ho tante cose da farvi vedere e tante storie da raccontarvi. A tra poco. A tra poco. L'immagine dell'acqua è propria di moltissimi miti che narrano la creazione del cosmo. Ad esempio il mito di Helios nell'antico Egitto, oppure nella mitologia sumera, la nascita degli esseri umani dalla fusione tra le acque salate e le acque dolci. Ci troviamo in India, antica terra di spiritualità e misteri. Tra questi magnifici paesaggi, remote montagne e silenziose foreste, nascono i Veda, i testi sacri dell'induismo, dove si racconta di come gli abitanti della terra siano emersi da un mare primordiale. Anche la Bibbia ricorda che il mito della creazione inizia con lo spirito divino che separa le acque dall'asciutto, mentre nel Corano si fa esplicito riferimento all'acqua nella frase «Dall'acqua abbiamo creato ogni essere vivente». Le antiche culture sembrano quindi possedere un comune ricordo, ma quello che più ci interessa è la straordinaria somiglianza di una delle divinità marine con le rappresentazioni presenti in altre culture, anche lontane geograficamente e in linea temporale tra di loro. Il mito della creazione babilonese è rintracciabile nell'Enuma Elish, opera conosciuta in varie versioni, la più antica delle quali risale al 1700 a.C. Lo stesso ricordo sembra avessero anche i Sumeri e gli Assiri, una memoria unica che suggerisce una domanda. Possibile pensare alla presenza di questi popoli anche i luoghi fino ad oggi ritenuti lontani dalla loro influenza. Il primo indizio proviene dall'osservazione di una scultura appartenente alla famosa e quanto mai misteriosa collezione Crespi, un argomento sul quale ritorneremo con un episodio a parte. Tra i tanti misteriosi reperti, due in particolare risultano particolarmente interessanti. Una scultura che raffigura quella che potrebbe essere una figura molto simile ad un toro alato, tipico dell'Assiria, ed una seconda che ricorda molto da vicino Oannes, la mitica divinità babilonese sorta dalle acque. Come spiegare queste misteriose somiglianze riscontrate in Ecuador, una terra culturalmente e geograficamente molto lontana dalla civiltà dei Sumeri? È possibile ipotizzare una connessione Sumera nell'America del Sud? Oppure si tratta soltanto di ricordi primordiali? Proviamo a capirne di più. Quella che state osservando è una fantastica ricostruzione di Akkad, città che ospitava il palazzo di Sargon, all'interno del quale si trovava la famosa figura alata che, se osservata attentamente, tiene qualcosa in mano. Questo oggetto è stato spesso descritto come una pigna oppure un dattero, ma altre volte anche come un grosso chicco di grano o di mais. Secondo l'archeologo americano Haywat Verrill, autore insieme a Rit Verrill di Antiche Civiltà d'America, il mais venne portato dall'America all'Asia dai primi viaggiatori sumeri, ma giunto a destinazione, poiché assolutamente sconosciuto agli agricoltori del luogo, si deteriorò, mentre in America, dove gli indiani avevano dimestichezza con questo tipo di colture, andò avanti. L'oggetto che Sargon stringe potrebbe essere un antico ricordo di questo evento. Sargon di Akkad, tra le altre cose, affermò di essere stato il signore dei quattro quartieri. E proprio nelle Ande, gli Inca si definivano come i signori dei quattro quarti. Ma sarebbe troppo semplicistico liquidare l'immagine della pigna con questa supposizione, anche perché, dietro questa raffigurazione, si muove un vasto scenario intriso di esoterismo, simbologie e spiritualità. La raffigurazione della pigna, infatti, è un tratto distintivo riscontrabile in tutte le culture antiche, a partire dall'Indonesia, l'antica Babilonia, i Sumeri, gli antichi Egizi, i Greci e i Romani, fino ad arrivare alle correnti filosofico-spirituali, quali il cristianesimo, la massoneria, la teosofia e l'ognosticismo. Ovviamente si tratta di qualcosa di estremamente importante, vista la sua diffusione, ed in effetti è importante, in quanto il suo significato originale si riferisce alla ghiandola pineale o terzo occhio. Questa interpretazione, nel tempo, si è allargata ad una visione più intima dell'aspetto simbologico. Per questa ragione ogni cosa che riporti alla mente l'atto di custodire, avvolgere o contenere rappresenta il centro spirituale, il significato profondo e nascosto, occultato agli occhi dei profani. Anche nel cristianesimo la pigna conserva il suo significato originale, tanto da avergli dedicato un cortile del Vaticano, chiamato appunto la Corte della Pigna, dove tra l'altro si trova quella che oggi viene considerata la più grande statua di una pigna esistente al mondo. Continuando su questo scenario, anche le torri del Tempio di Angkor Wat rappresentano delle pigne, simbolo non soltanto del terzo occhio, ma anche e soprattutto del risveglio. D'altra parte, la ghiandola pineale, che si dice sia posta proprio nel centro geometrico del cervello e viene considerata ad alcuni come il terzo occhio biologico, anticamente era vista come la sede dell'anima ed ha proprio l'aspetto di una pigna o di un occhio e proprio per questo motivo viene così chiamata. Si tratta di una minuscola appendice cerebrale presente in tutti i vertebrati provvisti di cranio, mentre negli uccelli fa parte del sistema di misurazione del tempo. Il suo antico significato non si è perduto con il passare del tempo. La tradizione induista, ad esempio, insegna i metodi per risvegliare il terzo occhio attivando i sette chakra. Si tratta di un esercizio molto antico, il Kundalini Yoga o Yoga della consapevolezza, un sistema che affonda le sue radici negli antichi testi vedici, ai quali abbiamo spesso accennato in alcuni episodi di frontiere proibite. Ma siamo quasi giunti alla fine di questo episodio. Ci rimane però ancora un oggetto da vedere. Per farlo dobbiamo ancora compiere un altro breve viaggio e la nostra meta sarà il lago Titicaca. Quello che state osservando è il lago Titicaca. Proprio in queste zone, a circa 80 chilometri dalla Paz, un contadino rinvenne casualmente un grosso vaso, forse un tempo usato per le libagioni. Subito ribattezzato con il nome di Fuente Magna, lo stesso della località del ritrovamento, il reperto venne considerato un falso. Questo almeno fino all'anno 2000, anno durante il quale si svolsero delle indagini più accurate. Si tratta di uno dei tanti reperti considerati scomodi, troppo frettolosamente o volutamente tacciati come falsi e sbrigativamente archiviati. Il vaso, splendidamente inciso, presenta motivi di animali e personaggi antropomorfi. Il fatto strano è che, a detta degli esperti, si tratta di un oggetto perfettamente in linea con la tradizione mesopotamica. Tra l'altro, sono evidenziati e perfettamente leggibili due distinti testi, il primo in carattere cuneiformi ed un secondo in lingua semitica, probabilmente originaria del Sinai. Esistono quindi molte possibilità che l'oggetto sia stato prodotto durante il periodo di transizione tra la scrittura ideografica e quella cuneiforme. Quest'osservazione ci porta ad un periodo stimabile tra il 3500 e il 3000 avanti Cristo, ovvero durante il periodo della civiltà sumero-accadica. Le iscrizioni sulla fuente magna vennero tradotte dal professor Clyde Winters, il quale rimase molto stupito nel leggere un riferimento alla divina Nia. Nia, o Nammo, infatti, per i sumeri, era colei che diede la luce al cielo e alla terra. Ci troviamo a Tiawanako, una città di pietra custode di molti misteri e luogo nel quale venne ritrovato l'ultimo oggetto che ci riporta alla nostra connessione sumera. Il monolito di Pocotia, noto anche come Monumento di Pocotia, un'antica statua di pietra scoperta nel 2002. Agli inizi si pensava che la scultura presentasse segni di scrittura soltanto sulle gambe. Ulteriori ricerche appurarono invece che esistevano segni anche sul retro, così come direttamente sotto la mano sinistra. Inutile dire che ancora una volta ci troviamo in presenza di caratteri che richiamano alla tradizione sumera, anche se in questo caso si tratterebbe di proto-sumero pittografico, quindi non cuneiforme come nella fuente magna. Le iscrizioni riportano ad un antico oracolo, Putaki, rappresentato dal monolite stesso e sono una esortazione alla verità. A questo punto risulta difficile credere alle coincidenze. D'altra parte, il manufatto di Pocotia e le statue di Tiawanaku riportano le stesse acconciature, mentre una menzione a parte meritano le iscrizioni. I sumeri infatti usavano il carattere cuneiforme non soltanto per scrivere il semitico, ma anche l'urrita, l'ittita e l'elamita. Tenendo conto che la fuente magna presenta due diversi sistemi di scrittura, ci si dovrebbe chiedere quale popolo in Mesopotamia usava entrambi i caratteri. La risposta, ancora una volta, è i sumeri. Nonostante gli studiosi non accettino di far risalire la civiltà nel nuovo continente a prima del 1200 a.C. e non ammettono la presenza di tribù organizzate con sistemi di scrittura e con capacità architettoniche almeno fino al 1000 a.C., i dubbi comunque rimangono. Ovviamente il nostro è stato soltanto un viaggio, un viaggio durante il quale abbiamo osservato ci siamo posti delle domande e questo già è un ottimo inizio. Così come accade per ogni viaggio, anche il nostro è giunto alla conclusione. Ovviamente torneremo ancora a parlare dei sumeri, torneremo anche a parlare del misterioso popolo degli Incas. Per adesso io vi saluto, ma prima di salutarvi, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto il video, a lasciare i vostri like, vi invito a lasciare i vostri commenti. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo viaggio oltre le frontiere proibite. Grazie, ciao a tutti. Grazie a tutti.